a due passi dallo splendido duomo di lucera nasce il santen un ristorantino fine elegante raffinato ma allo stesso tempo accessibile a tutti prima di tutto però conoscerete enzo e anna i gestori che hanno deciso di dar nuova luce a questo locale storico di lucera ok bella presentazione ma se volete sapere come si mangia dovete continuare a guardare volete sapere come parte il mio viaggio al santen proprio così una prallina di ricotta di bufala locale a seguire un lollipop e tre pecorini con cacao e per finire un bonbon di pizza fritta la pizza io e da bere scusa ben negroni ma ci sta proprio tutto ecco qui il tuo negroni caramella di negroni bevete responsabilmente la prallina è veramente buona la pizza fritta che prodica fare ma la sciccheria e lollipop lollipop c'è la caramella al negroni quindi bimbi proprio o no bambini di 38 anni si a santen fanno tutto loro non ci credete pure il pane no eccoci qua vi presentiamo il nostro pane preparato con lievito madre con palline disegnatore cappelli coltivate nel tavoliere delle publie e quindi adesso posso mangiarlo no siamo pronti per andarlo informato nel forno a legna verrà cotto per 20 minuti circa poi verrà servito pane appena sfornato lo so non c'entra niente con quello che sto per mangiare ma quando ha fette di prosciutto sarebbe proprio la morte sua ma pure formaggio l'olio quello di qua vabbè da proseguiamo e signori non ci crederete è arrivato l'olio 100 per cento per anzana prodotto da loro prosciutto antigianale selezione sabatino e addirittura un caciocavallo podolica del gargano stagionato in grotte saline vabbè guardate l'espressione che parla da solo proseguiamo salmone marinato pepe rosa citronetta alla senape da accompagnare una provetta con apero spizzi eppure questa è una figata eccezionale non mi dire niente Enzo visto le dimensioni fiori di zucca provetta e caramella non bastano ecco hai capito in abbinamento al piatto ti serviamo un vino spumante brut vinificato in acciaio e spumantizzato in metodo classico con un riposo sui lievidi di 24 mesi e che ve lo dico a fare sto fiore di zucca era veramente alto livello hamburger di seppia pesto di rucola e arancia questo non ve lo dico proprio tortino di baccalà con patate cavolfiore giallo e un pomodorino al rosso qui si sono proprio superati sembra il baccalà squisito che faceva mia nonna ravioli ripieni ai ceci bietole e gamberi e un peperoncino al soffio vabbè qua non vi dico niente anzi no vi do un indizio ho fatto la scarpetta abbiamo una gallinella in tempura insalata liquida una maionese allo zafferano e una chips di capocollo di mattina franca ragazzi basta sono pieno sto scherzando pur la gallinella merda di essere mangiata e termina il mio viaggio al santen lucena vista su questo giardino pazzesco come concludiamo col dolce ecco qui santino ti presenta il nostro panettone artigianale non ci crederete ma pure questo lo fanno loro entro me l'ho abbinato un moscato di trani dolce naturale e che vi devo dire pure il panettone è buono ma mo ci dobbiamo salutare e niente vi ho chiamati che sto seduto così non è bella volevo farvi i complimenti per i motivi giusti uno perché la location è veramente spettacolare due perché avete ridato vita alla storia dell'enocastronomia del ricevimento di lucera e tre soprattutto perché quello che portate nel piatto a prescindere da come lo presentate che è gourmet chiamiamo di alta classe è veramente semplice naturale quindi il sapore che c'è dentro è quello di una volta quindi significa che quando andate a fare la spesa non badate a spese complimenti 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 io ho visto che c'è una brace ho visto che c'è pure una fiorentina quindi io qui ci torno ma per assaggiare la carne auguri da Santino Caravella e soprattutto da Sant'Anna e Enzo auguri veniteci provate e fatemi sapere